Svanito l'agognato sogno della promozione diretta in serie B, lo spettro dei play-off appare sempre più concreto per i tifosi giallorossi. E così due di loro si aggrapparono all'ultima speranza. La fede. Signore mio, aiutacci tu. Facci la grazia, siamo venuti fin qua. La grazia. Perché non possiamo più sopportare di stare negli inferi della serie C. Sono quattro anni che soffriamo. Il Salento non merita questa sciagura. Il Lecce è una squadra da serie A. Iniziamo dalla serie B almeno. Ma solo la volta. Quattro anni che soffriamo il primo anno, tanti punti di vantaggio persi e perdiamo col cane. E la successiva col Frosinone. E la successiva ancora. Neanche i play-off hanno fatto e questa no sembrava una volta buona. Che vincono il campionato. Niente. Neanche stavolta. Niente. I play-off di nuovo. Satana Lucifero. 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 Ci ha messo il zampino. Maledetto. Per favore. Maledetto. Per favore facci uscire da questo inferno della serie C. Non ne possiamo più noi, Salentini. Facci il miracolo. Il miracolo. Il miracolo. E lui, muovendosi a commozione per quelle disperate anime, accolse la loro preghiera. E lui, muovendosi a commozione per la mia vita, accolse la loro preghiera. Alleluia. Aleluia. Alleluia. 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 Oh, papà. 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 benedici il nostro lecce per favore benedicici io vi posso pure benedire e ma ci questi non fuciono e c'è picca da fare e comunque forza lecce c'è picchi da fare se questi non fuciono forza lecce ma non bere argentino fino alla fine forza lecce